Indice degli argomenti, strutture versatili e realizzate su misura elementi d'arredo flessibili e trasformabili progetti salvaspazio. Due punti il contributo dell'architetto Pietro Cerutti progetto d'interior, casamela grana mensole multitasking, cucine a scomparsa, letti, contenitori, lavelli salvaspazio, finestre vasistas, lavabie sanitarie in versione ridotta e ancora librerie molto sottili, camerette in verticale, fino ai pavimenti optical che amplificano visivamente lo spazio, la narrazione dei prodotti e dei progetti salvaspazio. Percorre trasversalmente stili e tendenze dell'abitare contemporaneo, a partire dagli anni 50 e 60 dello scorso secolo, ovvero dalla nascita dei grandi edifici residenziali collettivi che segnarono un momento di maggior benessere per tutti, anche per la classe sociale bassa, a patto che si accettasse di restringere i propri spazi viali in appartamenti di piccola metratura. Oggi possiamo dire che quasi ogni progetto di architettura e di design ha la base strategie di sfruttamento dello spazio ben precise, che si integrano con le funzionalità specifiche del prodotto o della struttura e che derivano da un approccio all'abitare consapevole e sensibile alla salvaguardia delle risorse, al riutilizzo e all'utilizzo multifunzionale e di conseguenza ai temi della sostenibilità. E per sottolineare la loro sensibilità ecologica alcuni produttori utilizzano materiali etici, come legname da riforestazione certificato, strutture versatili e realizzate su misura. Spesso gli spazi cosiddetti di risulta presentano misure e conformazioni piuttosto complessi, geometrie irregolari che non permettono di accogliere elementi d'arredo e complementi dalle forme regolari, piccoli mobili, scatole. Ma osservando bene le pareti, si può notare quanto queste possano essere sfruttate ulteriormente con sistemi speciali e sartoriali, e arredi su misura che giocano con le altezze e con i mobili contenitori che riducono i centimetri. La maggior parte dei progetti per spazi di questo tipo vengono realizzati su misura. Un esempio, è il sistema schema di Ferrero Legno, una struttura composta di pannelli filomuro di varie dimensioni e di ridotto spessore. In MDF idrofugo che danno vita a ripostigli, cabine armadio su misura, chiudendo vani sottoscala, vani cucina, nicchie e quadri di controllo. La sua principale qualità è la versatilità, essendo infatti disponibile a battente, con chiusura a libro o a ribalta, si adatta a tutti gli spazi anche a quelli di forma trapezoidale. I pannelli hanno dimensioni diverse e possono essere montati con sistemi ad anta singola o doppia, sovrapposta o asimmetrica, con chiusure a quattro o a tre lati, per aperture molto ampie o in situazioni in cui è necessario sfruttare al meglio ogni spazio. Il telaio esterno può arrivare fino a una dimensione massima di L530XH 350 cm. La versione su vano finito è destinata invece all'applicazione in fase di cantiere, il telaio in nobilitato bianco, grazie alla sua elasticità, si adatta alle piccole irregolarità della parete su cui viene applicato rendendone possibile l'inserimento a lavori finiti. Questo sistema è versatile anche sul piano estetico, presentando molteplici nuance tra cui la finitura ecosostenibile ultra opaco, e varianti grezze che permettono di colorare i pannelli nella stessa tonalità della parete o di applicare la carta da parati. Soluzioni su misura sono anche quelle che propone la casa moderna, i cui progettisti realizzano disegni su misura per le diverse conformazioni spaziali e quindi, un lungo corridoio si trasforma in una cabina armadio mimetizzata nelle pareti senza ingombrare, se vengono scelte. Porte scorrevoli Nella zona notte il letto può essere dotato divano contenitore e ugualmente si può fare con il divano in salotto. Punto e virgola Un sottoscala può invece trasformarsi in pratica lavanderia con l'inserimento di una elegante scaffalatura sopra la lavatrice. Un pratico piano lavoro e di mobili progettati su misura per nascondere detersivi e assi da stiro che tuttavia, con pochi gesti, tornano ad essere immediatamente accessibili. Una soluzione per sistemare piccoli vani tecnici nelle pareti la propone DR con i pannelli a filo muro shape con versioni a una o due ante e apertura fino a 180 gradi. Il risultato è la completa mimetizzazione nella parete. Elementi d'arredo flessibili e trasformabili Un'altra soluzione per ottimizzare piccoli e complessi spazi ai margini delle stanze che abitiamo sono alcuni particolari elementi di arredo che possono essere flessibili e trasformabili in base alle diverse esigenze, oppure strutture stabili che presentano una molteplice multifunzionalità. Nella prima categoria citiamo l'appendiabiti di Foppa Pedretti a forma di piantana espansiva, così chiamato per la sua specialità di poter estendere un braccio e trasformarsi in pratico stendo per giacche, camice, cappotti e altro. Il marchio è certificato FSC, license code FSC C004369, e ha una politica sostenibile molto articolata che abbraccia le diverse fasi della produzione, utilizza pannelli solari per il proprio fabbisogno energetico e anche gli scarti di legno vengono riutilizzati, dopo un opportuno trattamento, come combustibile. Inoltre, per le diverse finiture vengono utilizzate vernici all'acqua. Versatilità e metamorfosi sono anche le qualità di un oggetto simbolo del design come la libreria Joy di Zanotta, firmata da Achille Castiglioni nel 1989, realizzata con pannelli in MDF uniti tra loro da snodi portanti in acciaio verniciato che permettono la mobilità dei diversi ripiani a L. Quando, invece, si desidera sfruttare lo spazio in verticale generalmente si realizzano strutture a soppalco e per camere e camerette. Ormai è disponibile un'ampia letteratura di letti e lettini soppalcati, come la struttura svarta di Ikea in acciaio. Questi letti liberano spazio sul pavimento che può essere utilizzato per una scrivania, un divano, un armadio o per creare un angolo accogliente con cuscini. Progetti salva spazio. Il contributo dell'architetto Pietro Cerutti. Per sfruttare al meglio gli spazi di risulta è fondamentale attribuire loro una chiara funzione e progettare senza compromessi nel solco della destinazione prescelta, prediligendo soluzioni innovative e originali. Durante il primo lockdown sono stato chiamato, nell'ambito di un progetto di ristrutturazione di una casa unifamiliare, a dar risposta. All'esigenza di creare una postazione per lo smart working in una camera che presentava un volume sporgente dal pavimento sotto il quale si celava la rampa di scale per il pian terreno. Tale parallelepipedo, di circa 2x1m in pianta, incombeva nella stanza senza alcuna funzione, troppo alto per starci sopra in piedi. È troppo scomodo per sfruttarlo come libreria. Dunque l'idea, la zona sopraelevata sarebbe stata trasformata in un soppalco dove lavorare seduti alla scrivania. Ho dunque progettato una scala, contenitore, in legno per collegare i livelli e uno scrittoio adiacente al muro lasciando libera tutta la superficie di calpestì ove poter collocare una sedia operativa a ruote su razze. Sul perimetro esterno del volume sopraelevato è stata posta una rete elastica di derivazione nautica, che assicura il giusto margine. Di sicurezza con quel tocco di originalità che qualifica la composizione architetto Pietro Cerutti Progetto d'Interior, Casa Melagrana. All'isola d'Elba, nella zona di Secchieto, costa occidentale, troviamo un esempio di abitazione il cui interior designer ha curato al massimo l'utilizzo dello spazio, anche nella sua verticalità e anche attraverso la scelta di elementi per l'illuminazione che contribuiscono ad armonizzare le scelte architettoniche e a creare atmosfera. La casa, di circa 100 metri quadrati, ha un aspetto rustico e i materiali sono naturali e di provenienza locale, grazie alla ristrutturazione. Del solaio si è ricavato un soppalco che ha permesso l'espansione della zona living, con un discreto e raccolto salottino con doppio affaccio sulla cucina e sul living, come una sorta di ponte sospeso. La scultore a lampada a sospensione Field e Fair, di Catellani e Amp, Smith fa da trait di Union tra sopra e sotto. Nel suo palco l'atmosfera avvolgente e rilassante è creata dalla lampada Wawa, sempre di Catellani e Amp, Smith e dall'altra lampada. A cerchio sorrigiotto, nella versione da tavolo. Foto in apertura, Casa Melagrana. Foto di Adriano Bacchella.